Noi come circolo siamo una delle poche cose rimaste in questo paese dopo la chiesa, però sai anche te che la chiesa o sei di chiesa o non riesci ad entrare a far parte. Questo è un circolo che non è nato così per niente, è nato perché aveva uno scopo, l'aggregazione dei cittadini di Tone. Noi cerchiamo di tenere vivo un paese come questo, i giovani non sono tanti, quelli che ci sono ci aiutano grazie al cielo. Come Casa del Popolo dobbiamo cercare di rivitalizzarlo un attimo, di trovare qualcosa da fare. Lo scopo adesso è quello di riunirci e quindi fare un pochettino quello che è di nostra iniziativa, la birra. Stai registrando tutto? Birghi! Uno nostro canale un pochettino Grazie a tutti